Nel cuore del palazzo, segreti, tensioni e rivelazioni si intrecciano. Manuel torna, ma qualcosa è cambiato. Scopri cosa sta per accadere e quali decisioni sta prendendo riguardo al suo futuro con Jimena. Nella frenesia di dicembre, il Palazzo della Promessa si prepara per un evento, che ha tenuto tutti in trepidante attesa, il ritorno di Manuel de Luyan. Dopo mesi di misteriose assenze e voci che riecheggiano tra le mura, il momento è finalmente giunto. E mentre la neve fuori inizia a cadere, all'interno del palazzo cresce l'anticipazione. Sarà davvero un ritorno a casa per Manuel, proprio in tempo per le festività? Il Natale al palazzo promette di essere pieno di sorprese e rivelazioni. Mentre Manuel affronta la sua nuova realtà, un dettaglio sconosciuto sul suo passato potrebbe cambiare tutto. Continuate a seguirci per svelare questo mistero che potrebbe stravolgere tutto ed iscrivetevi al canale, per non perdere nessuna novità. Come era prevedibile, non appena ha messo piede nel palazzo, Manuel ha fatto una rivelazione che ha fatto girare la testa a molti. Sarebbe stato con Ana, la cameriera. Mentre molti speculavano sulla natura dei loro sentimenti, è innegabile che tra loro ci fosse un legame profondo. Durante la sua assenza, Manuel avrebbe certamente riflettuto sulle complesse dinamiche tra lui, Anne e Jimena. Quest'ultima, con la sua natura gelosa e tendenza a manipolare la verità, ha sempre rappresentato una sfida per Manuel. Ma al suo ritorno, la situazione potrebbe rivelarsi ancora più complicata di quanto avesse mai immaginato, con Jimena che potrebbe non essere la donna che ricordava. Alienato, la verità è che non mi piace particolarmente il carattere di Jimena. Ma devo ammettere che in questa situazione penso che Manuel abbia molto a che fare con la sua pazzia dato che, come Lady Lies, è ossessionata da lui. Alla fine, questo ha portato al fatto che la sua mente non ha sopportato così tante bugie e, infine, pensa che tutti siano contro di lei e che vogliano separarla da lui. Come abbiamo visto nel capitolo di ieri quando ha detto loro che lui li avrebbe uccisi tutti, la verità è che lui. Manuel, vittima di amnesia a causa di un tragico incidente aereo, si trova a fare i conti con le conseguenze di scelte fatte in un passato di cui ha solo frammenti di memoria. Il giorno delle nozze con Jimena, suo padre gli aveva sussurrato dell'opportunità di fuggire, di prendere tempo. Ma in quel momento cruciale, Manuel aveva rifiutato, accettando il destino imposto. Questa decisione, in seguito, ha alimentato chiacchiere e speculazioni, diventando motivo di diletto per Jimena e sua madre. E ora, dopo un intenso confronto con Han, Manuel si ritrova a riflettere su quanto sia cambiata la sua vita. La conversazione con Han gli ha offerto una prospettiva diversa, un'opportunità per riflettere sul suo matrimonio con Jimena. La distanza emotiva e i segreti non detti si sono fatti più evidenti, costringendo Manuel a confrontarsi con la realtà del suo rapporto. Ma i dilemmi di Manuel non finiscono qui. Deve anche prepararsi ad affrontare i marchesi di Luian, i suoi genitori, che, inevitabilmente, nutrono risentimento e delusione per le scelte del figlio, per aver abbandonato la dimora e lasciato dietro di sé un'eredità complicata. Manuel, ora gravato dalla difficile responsabilità di gestire una Jimena che appare completamente smarrita, sembra essere cambiato. Se in passato veniva spesso descritto come impulsivo e ingenuo, ora emerge una sua sfaccettatura più dura e risoluta, che ricorda il carattere del padre. Tuttavia, le verità nascoste e le mezze verità continuano a circondarlo, rendendo la sua situazione ancora più complessa. Quando i marchesi di Luian gli rimproverano di aver lasciato Jimena in uno stato di confusione, Manuel risponde con sincerità, sottolineando quanto sia stata difficile la loro convivenza e quanto sia stanco di questa situazione. La sua stabilità finanziaria, tuttavia, sembra precaria, considerando che non ha accesso alle sue carte di credito. Mentre Manuel ora mostra una resistenza crescente nei confronti di Jimena, è inevitabile chiedersi se questo segni l'inizio della fine del loro matrimonio. La tensione tra i due è palpabile e le dinamiche stanno cambiando rapidamente. Cosa riserva il futuro per Manuel e Jimena? La loro storia d'amore ha visto molti alti e bassi, ma questa potrebbe essere la prova decisiva. Iscriviti ora al nostro canale. Clicca sul pulsante di iscrizione e rimani al passo con le ultime novità dal Palazzo della Promessa. Condividi le tue previsioni e pensieri nei commenti e rimani sintonizzato per ulteriori sviluppi.